Allora, c'è un'altra guerra latente, invisibile, ma nemmeno troppo, nel Mediterraneo, un po' lo specchio delle tante difficoltà del Mediterraneo, ed è la guerra della pesca, la guerra, si dice, del gambero rosso, e anche qui si spara. È successo al peschereccio Aliseo, il suo comandante è stato ferito da dei motopescherecci turchi. Allora, diamo il benvenuto a Francesca Biondo, direttore di Federpesca. Buongiorno, buongiorno. Ma andiamo subito a collegarci con Mazzara del Vallo, dalla nostra Carlotta Ricci, che è a casa di Giuseppe Giacalone, il comandante ferito. E sappiamo che appunto sono proprio i pescatori di Mazzara del Vallo, quelli che si trovano più in difficoltà sia di fronte alla Libia, sia verso la Turchia. Carlotta. Allora, buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Noi ci troviamo nel patio della casa della famiglia Giacalone e intorno a noi, come in tutte le case di Mazzara del Vallo, tutto parla di mare e di pesca. E allora lo abbiamo evocato, ve lo facciamo vedere, perché è qui ed è questo, l'oggetto del contendere, il famoso gambero rosso che i pescatori di Mazzara del Vallo vanno a pescare anche molto lontano da qui. E allora esattamente una settimana fa che cosa è accaduto? Che di fronte alle coste di Oms, il comandante Giacalone aveva finito di pescare, stava ritirando le reti. A un certo punto, a mezzogiorno, che cosa è successo? A mezzogiorno, no, verso le 11 il comandante, dopo che abbiamo trattato le reti, il comandante della nave veritale, ci ha detto assumete il rotto a nord, per favore. Abbiamo assunto il rotto a nord, abbiamo chiesto al comandante della nave italiana, ma c'è qualche cosa, non ve lo posso dire. Abbiamo assunto il rotto a nord, almeno per un'ora, e poi, siccome ero stangato, perché avevo passato da Benghazi, poi là... Quando è scoppiato quello che avete subito? Verso le 2, perché noi abbiamo assunto rotta a nord, poi abbiamo assunto rotta a nord, perché ero stanco, volevo andare in Grecia. Mentre che abbiamo assunto rotta a nord, verso mezzogiorno abbiamo visto una nave libica che veniva verso di noi, mentre sopra avevamo l'elicottero della marina italiana, e allora ho chiamato aiuto, dicendoci alla nave veritale italiana, guarda, vedi che c'è un bersaglio qua, libico, che si viene alla volta. Il comandante mi ha detto, continua sempre con la stessa rotta, non ti preoccupare. Poi quando, a giro di un quarto d'ora, la nave libica ci voleva affiancare e cominciato a sparare. E allora, sparando, sparando, noi assumiamo il comandante, qua ci sparo, non ti preoccupare, vai sempre con la tua rotta. E poi, arrivando a un certo punto, perché è durato quasi un'ora e due ore, meno un'ora e 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 un'ora. Voi siete riusciti comunque a ripararvi, lei ha messo in salvo tutti. È stato però ferito. Possiamo mostrarvi la ferita del comandante, perché, insomma, grazie a Dio sta bene, quindi esatto. Allora, si sono ripetuti poi gli altri eventi anche di accerchiamenti, speronamenti. Carlotta, fermiamoci qui, poi torniamo a collegarci con te tra poco. Dottoressa Biondo, la storia che ci ha raccontato Carlotta sicuramente è una storia che fa molto riflettere. Quanti pescarecci abbiamo noi? Perché, insomma, è chiaro che il settore della marineria da pesca rappresenta un anello molto importante della nostra economia. Quanti pescarecci ci sono? In quante zone è pericoloso pescare, lavorare? Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie di aver trattato questo tema nella vostra trasmissione. I pescherecci della flotta italiana si aggirano intorno alle 25.000 unità, ovviamente distribuite su tutto il territorio nazionale. Di queste, circa un 3.000 sono imbarcazioni di grandi dimensioni, tra cui anche quelli della flotta di Mazzara del Vallo, che sono pescherecci cosiddetti di altura, ovvero che appunto fanno una pesca nelle acque del Mediterraneo. E noi abbiamo in Italia, diciamo, una distribuzione delle zone di mare suddivisa per aree geografiche, cosiddette, diciamo, in termini tecnici GSA, che rappresentano la suddivisione geografica in porzioni delle acque territoriali italiane. Ovviamente, diciamo, la pesca di altura è possibile effettuarla anche all'interno di quelle che sono, diciamo, cosiddetto, il mare libero, le acque internazionali. Tuttavia, negli ultimi anni, ovviamente, diciamo, i conflitti delle altre coste del Mediterraneo, le problematiche del Mar Ionio, del Maregeo, del Canale di Sicilia, hanno di molto ristretto gli spazi e le possibilità di pesca per i nostri operatori. Perché c'è, ho letto che c'è questo fenomeno, insomma, geopoliticamente molto importante, per cui gli Stati tendono a territorializzare le aree di pesca. Cioè, qui è mio e basta, qui pesco solo io. Sì, diciamo che... Lo vediamo io con la Libia, adesso lo vediamo con i turchi. Esatto, diciamo che il diritto internazionale del mare prevede questo, ovvero che anche unilateralmente uno Stato possa dichiarare una zona di protezione speciale, come ha fatto, ad esempio, la Libia nel 2005, quando ha, diciamo, ampliato le proprie acque territoriali, molto oltre le 12 miglia, che sono normalmente le acque territoriali degli Stati. La Libia nel 2005 ha ampliato le proprie acque territoriali di altri 62 miglia, quindi arrivando a 74 miglia dalle coste. Il punto invece è che il Gambero Rosso a quante miglia marine si pesca? Il Gambero Rosso si pesca proprio al centro dello stretto di Sicilia, al limite di questa porzione di mare. E oltretutto, diciamo, le zone sono diverse, ovviamente non c'è una sola zona, il Gambero Rosso va pescato in diverse porzioni di mare, perché anche il mare, come la terra, in qualche modo va coltivato, perché se non si va a pescare il Gambero Rosso non si riproduce. Torniamo da Carlotta Ricci a Mazzara e il Vallo. Carlotta, hai altre storie da raccontarci? Sì, esatto, proseguiamo nel racconto, perché è veramente una vicenda dalle mille sfaccettature. Stanotte è rientrato da 33 giorni di mare Giacomo, che è il figlio dei signori Giacalone, ed è uno dei 18 pescatori che è stato sequestrato, ricordiamolo, per 108 giorni da settembre a dicembre in Libia. Giacomo, tu sei tornato in mare. Intanto, com'è andata quell'esperienza? Che cosa ti ha lasciato e con che spirito si torna in mare adesso? Innanzitutto, buongiorno. L'esperienza è stata bruttissima, perché eravamo là, siamo rimasti 108 giorni, senza sapere niente, quando andavamo a casa a vedere la famiglia, e sono ritornato a mare dopo circa due mesi, perché il pescareccio è mio e non trovavo il sostituto. Se no, non ero ancora in condizione di andare a lavorare sul mio pescareccio. Adesso come si riesce in mare? Con che è stato d'animo? Si va a mare sempre con la paura, non ritorna a mare come ero prima, con lo stato d'animo, con la grinta di prima. Si ritorna a mare sempre con la paura. Con la paura e senza sapere dove andare esattamente. Molto rapidamente, volevo farvi vedere questa, che è una lettera che hanno scritto i 18 pescatori. Ci sono le firme di tutti, è stata scritta anche in lingua araba, con cui i pescatori chiedono alla Libia un risarcimento di un milione di euro per famiglia, perché la detenzione è stata veramente durissima. E poi c'è chi a casa aspetta, ovviamente. Esatto. Senza spesso avere notizie, la signora Nuccia, che è la moglie del comandante Giacalone, che cosa succede qui a casa quando si aspetta? Come si sta? Anzitutto, buongiorno. Si sta malissimo, perché di mio figlio è stato un brutto incubo, che è ancora indimenticabile, che ancora non... E non si può dimenticare, che è stato troppo pesante, 108 giorni. Massimo per una mamma è troppo pesante. E poi non è finita, perché poi c'è stato l'evento? Ancora mi dovevo riprendere il fatto di mio figlio. E poi c'è stato l'altro colpo di mio marito, che è... Insomma, non è... Certamente, Carlotta, è chiaro che... Mi facevate forze tra... E tra famiglie, immaginiamo. No, ma allora l'ultima per chiudere, dottoressa, perché insomma, uno esce in mare a fare il suo lavoro a paura che vengano esplosi dei colpi di arma da fuoco. Insomma, poi ci sono le famiglie che lascia a casa. Come si può tutelare? Che cosa fa Federpesca per proteggere i propri lavoratori? Intanto voglio salutare la famiglia Giacalone. Il loro racconto ci dice, diciamo, di un mestiere che a me, quando ho conosciuto questo settore, sono andata più volte a Mazzara del Vallo, mi hanno raccontato come il mestiere, diciamo, che più di tanti altri garantisce libertà, perché è un mestiere in cui si va in mare, in cui ci si sente liberi, in cui si può, diciamo, appunto, lasciare a terra tutti i pensieri e affrontare questa vita in questo modo. Il loro racconto racconta, appunto, che non è più così, che quando si salpa dal porto di Mazzara del Vallo si va incontro, diciamo, non semplicemente al fatto di voler... Ha paura nel cuore. ...di voler, diciamo, portare avanti la propria attività di impresa, il proprio lavoro, ma avendo paura per la propria sicurezza e per la propria salute. E questo non è possibile. Ma ha detto che la Marina Militare ha dislocato più navi in parecchie zone del Mediterraneo adesso, a difesa. E questo sicuramente è un deterrente importante, lo abbiamo visto anche con quello che è successo qualche giorno fa ed è il motivo per cui in queste ore, nuovamente, noi abbiamo chiesto anche al Governo italiano, al Parlamento, a tutte le forze politiche, un impegno nel senso di trovare delle soluzioni anche concrete e all'Unione Europea che vadano nella direzione di garantire la possibilità di lavorare. Qualcuno ha proposto, voglio dire solo questa cosa, qualcuno ha proposto di dare degli indennizi ai pescatori per questo, diciamo, disturbo, lo hanno chiamato così. Noi non siamo assolutamente d'accordo. Noi siamo perché si possa tutelare la dignità di questo lavoro. E il lavoro, certo. Grazie, dottoressa. Grazie, grazie alla famiglia Giacalone. Naturalmente, grazie Carlotta di averci raccontato questa storia. Grazie, dottoressa.